Prove di fuga, non si ferma la corsa del Branca che nella seconda giornata di ritorno del girone A di promozione, grazie ad un secondo tempo regale, supera 3-1 San Marco Juventino al Santa Barbara per tre punti che non solo legittimano il primato, ma consentono ai bianco blu di allungare a più 5 sulla Ponte Vecchio, sconfitta 1-0 in caffa dalla Piavese e raggiunta ora in seconda piazza dal Ventinella che ha superato a sua volta 1-0 Tavernelle. Nel primo tempo contro i perugini il Branca giocava sotto ritmo, non riuscendo a mettere in atto la consueta mole di gioco, mentre il San Marco, grazie ad un'incredibile evoluzione di Depretis che direttamente da calcio d'angolo con una tariettoria perfida trafiggeva Marchi, chiudeva avanti di una rete. Il match varia repentinamente a metà ripresa, quando Urbani, già ammonito, ferma irregolarmente Bellucci al limite dell'area. Secondo giallo e conseguente espulsione per il difensore ospite e i brancaiolici mettono poco più di 60 secondi ad approfittare della superiorità numerica con Gnagni che d'angolo di Montanari, con una chirurgica torsione aerea in sacca il pari. Grande bagarre nel finale. Prima l'arbitro, trotta di Foligno, non concede un rigore apparso solare agli agubini per un intervento in area di Biavati su Bellucci, ma proprio al novantesimo, da cross profondo di Alessandro Gaggiotti, la difesa respinge corto ancora Gnagni, si incune in area e con un destro al volo all'angolino manda in apoteosi la curva max. I perugini allora si sbilanciano in avanti alla ricerca del pari ed in pieno recupero in contropiede. Il branca firma il tris con Bellucci che su lancio lungo scatti in profondità contro la Di Petto e di destro griffa il definitivo 3-1, nonché l'undicesimo sigillo in campionato, due gol sotto, il capocannoniere pica. Il branca conferma così l'imbattibilità stagionale e domenica è atteso all'ostica trasferta di Città della Pieve contro la Pievese per proseguire la cavalcata in vetta verso un traguardo chiamato eccellenza. Nel secondo tempo si è rientrati colpi, io giusto, abbiamo provato subito a far gol. L'episodio dell'espulsione naturalmente ha inciso in un po' sulla gara, questo è chiaro, però si è rientrati con un'altra testa nel secondo tempo, con più velocità e più rapidità nelle giocate, più scambi veloci, quindi si è riusciti a ribaltare il risultato. Sapevamo che era una partita difficile da affrontare perché loro si chiudono tanto, hanno sempre 8-9 giocatori sotto la linea della palla, perciò su un campo come il nostro è difficile trovare spazi. Abbiamo avuto la pazienza di recuperare, abbiamo avuto la volontà e la pazienza di tornare in partita, poi dopo l'espulsione sicuramente ha condizionato la gara, comunque va dato atto che è in merito alla mia squadra che nel secondo tempo abbiamo fatto bene.